Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui su Malati per l'Ecritto con Fabrizio Ferri, il vostro analista tecnico. Come al solito, prima di iniziare ti ricordo che è facilissimo iscriversi al canale e cliccare sul pollicione se questi video ti piacciono perché magari già sei utente affezionato. Ovviamente per chi ci scopriva soltanto oggi, guardate il video e poi eventualmente lascia sul pollicione. Ma andiamo a capire quelle che sono le disamine tecniche, perciò non sono consigli finanziari, ma l'approccio ai grafici, sfruttando TradingView qui su Young Platform Pro. Proprio per questo ho intenzione subito di farvi vedere la possibilità di utilizzare la... aspettate un attimo che voglio mostrarvi proprio la... eccolo qui. C'è il nostro coupon firmato MPLC, c'è il link in descrizione per poter acquistare Bitcoin ed avere 10€ come bonus su Young Platform tradizionale o comunque poter scegliere di iscriversi direttamente a Young Platform Pro ed avere per un mese le commissioni scontate al 50%. Cosa importante, se fai l'holder e tieni Bitcoin da qui alle prossime 10 anni, ti consiglio di sfruttare il bonus a Young Platform base. Mentre se sei un trader e ami stare aggressivo sui mercati, sfrutta senza dubbio l'opportunità di ricevere il 50% di sconto sulle commissioni per un mese. Comunque tutto molto facile, scritto giù in descrizione. Vado a togliere qua il bonus e andiamo a vederci subito insieme Ripple USDT. Ripple che stamattina comunque continua ad appompare il suo trend rialzista. Abbiamo una, diciamo così, una connessione con una resistenza molto importante in zona 1.36, 1.40. Secondo me dovesse andare oltre questa fascia qui potrebbe addirittura spingersi su vecchi massimi e come prima battuta arrestarsi in area 1.54, 1.55. Quindi ecco, attenzione a Ripple che sta realmente andando molto, molto forte. Da Ripple passiamo alle altre legate all'USDT. Stamattina già avevo fatto un'analisi su Bitcoin, Ethereum e Binance Coin. Andiamo a vederci insieme Dogecoin. Eccola qua. Zoomo anche un pochino il grafico. C'era un'area di resistenza supporto che si stava praticamente configurando su Doge. Doge che finalmente sembra essere riuscito a rompere a rialzo area quota 0.30 e sta lentamente andando a ritracciarla. Potrebbe essere uno spunto molto interessante vederla sempre più orientata a rialzo. Cosa che però non mi convince al massimo è questo scarico di volatilità perché ovviamente c'è un po' di compressione da parte dei prezzi. Eccola qua. Vediamo, prima eravamo qui poi a rotto, adesso siamo qua. Sinceramente non mi convince appieno, però il trend di base rimane sul breve periodo comunque rialzista e anche sul medio rimane fortemente orientato a rialzo. Passiamo poi all'altra qua in ordine. Quindi tutto quanto ce le faremo in questa analisi. DOT-USDT, come dicevo in questi giorni c'era un'ottima possibilità di vedere DOT toccare il 34 e effettivamente ci siamo arrivati senza troppo sforzo. Probabilmente arriveremo anche in zona poi 38 se ovviamente poi decidessi di continuare a cavalcare questa fase rialzista. Molto molto interessante. Eccola qui l'altra zona che deve essere ben monitorata. Secondo me c'è ancora un trend fortemente rialzista e di conseguenza potrebbe offrire spunti di assoluto, assoluto interesse. Passiamo da DOT. Visto che sono tante non voglio tediarvi troppo. Andiamo sul link WSDT. Link che sta, o meglio che ha, strapompato nelle ultime giornate e sta continuando a spingere forte. Trova un po' di rifiuto in zona 35 dollari. Vediamo un po' come si sta muovendo. Era un'area per me molto, molto interessante. Infatti l'avevo riconosciuta anche nelle altre analisi e l'ha praticamente toccata e l'ha sentita. Quindi un piccolo storno da zona 35 per poi riposizionarsi in area 33 dollari. Comunque trend ancora molto forte e sinceramente senza sbilanciarmi troppo attenderei la rottura di quest'area di esistenza assolutamente molto, molto importante. Passiamo poi da Link WSDT a Litecoin. Litecoin che tanti trascurano sempre però Litecoin nel suo essere umile dopo quest'area di blocco ovviamente è evidentissima perciò una fase di lateralità estremamente riconoscibile va a rompere l'equilibrio e adesso si sta dirigendo con forza in area secondo me 270. C'è ancora un bel margine non sarà volatile come le altre però ecco 269 secondo me rappresentano un livello estremamente importante da tenere sotto osservazione assoluta ragazzi, assoluta. Poi da Litecoin non possiamo dimenticarci di Bitcoin Cash Bitcoin Cash che molto similarmente a Litecoin aveva questa piccola fase di congestione rotta con un importante slancio secondo me c'è ancora un po' da fare perché deve violare gli 800 dollari sopra gli 800 dollari potremmo non dico tranquillamente però potremmo serenamente affrontare ancora un rialzo quantomeno fino ad una zona che a me interessa molto questa zona qua 970 potrebbe essere un target sul medio periodo assolutamente interessante ecco questa è la mia idea ovviamente ragazzi non sono consigli finanziari ma ormai lo sapete 1inch da poco quotato qui su Young Platform Pro sembra estremamente forte tocca gli ultimi massimi addirittura li viola da 3,70 o meglio 3,72 sembra poter addirittura cavalcare il trend dove andrà? Beh sinceramente non lo so la mia idea al momento è una proto in zona 4,85 dollari giusto per perché non ah giustamente se non lo lascio andare eccolo qua gli cambio anche il colore intorno ai 4,95 dollari potrebbe essere una zona di target estremamente interessante abbiamo questo 1inch andiamo a vederci Sandbox che sta andando molto bene fa fatica a rompere questa zona che praticamente offre una fase di congestione forte rivedo in questa area una sorta di triangolo rettangolo che qualora venisse rotto a ribasso potrebbe essere un problema però sinceramente visto il trend così forte al momento è ancora più indirizzabile come previsione verso lato però c'è sempre il però che il mercato non è proprio così prevedibilissimo si parla sempre di tanta volatilità si parla sempre di probabilità e quindi non possiamo essere troppo superficiali nel gestire la posizione e insomma dicevo che da Sandbox andiamo a vederci insieme MakerDAO eccola qua Maker che è un pochino bloccato in questa fascia fascia che comunque sembra resistere molto bene continuerà a salire questo al momento è difficile prevederlo però sicuramente offre una buonissima indicazione il rialzo nella fase attuale quindi tocca una bella un bel supporto sembra orientata a spingersi contro resistenza termina di 713 vediamo se realmente riuscirà a toccare nuove vette allora ragazzi cosa importante che ci tengo a dirvi attenzione ai prezzi perché non tutte le piattaforme hanno gli stessi prezzi non andate subito a pensare che sia facile fare arbitraggio che cos'è arbitraggio poi un giorno ve ne parlerò in un video però attenzione perché poi se facciamo analisi su GAM Platform dobbiamo operare e gestire l'operatività su GAM Platform non possiamo fare delle fusioni di prezzi e di andamenti ok ecco questa ci tenevo a dirlo in questo video e l'ultima delle combinazioni con USDT è Sushi Sushi Swap che sembra ben orientata ancora al rialzo sembra aver toccato livelli molto importanti quindi gli 11 hanno retto bene e ora ve lo faccio vedere proprio in evidenza eccola qua e stiamo parlando di un mercato molto intenzionato al momento ancora a crescere quindi dove andremo non si sa posso dirvi però dalla mia analisi che zona eccola qua zona 13 13,90 14 dollari è una zona molto molto importante però va gestita anche qui con saggezza perché comunque siamo su livelli interessantissimi che i 14 dollari rappresentano veramente quota molto sensibile abbiamo dei massimi recenti sui 22 al momento faccio fatica a dire arriveremo a 22 però il trend è rialzista perciò perché non tentare di cavalcare la fase che si sta sviluppando anche su Sushi Swap insomma ragazzi questa era l'ultima da Young Platform e da Fabrizio Ferri vi ricordo giù in descrizione se sei un holder sfrutta il bonus Young Platform base quindi 10 euro di bonus che potrai tranquillamente utilizzare per acquistare bitcoin ed ilmo e quant'altro oppure se sei un trader la cosa che ti dico da fare subito è andare a sfruttare il coupon per il 50% di sconto sulle commissioni quindi buona serata a tutti quanti a più tardi con le prossime analisi qui su Malati per le cripto ah un'ultima cosa se non mi dimentico vi metto la chiusura video eccola qua così potete seguirci anche sui vari social c'è Facebook già magari tanti di voi conoscono c'è il gruppo Telegram molto attivo c'è il gruppo o meglio il gruppo Facebook e c'è anche il profilo Instagram comunque di base su YouTube trovate sempre i contenuti più interessanti legati a Malati per le cripto ovviamente video consigliato corso base di trading su Bitcoin quindi se sei neofita non esitare e vai subito a scoprire i dettagli